Come va? Abbastanza bene, con un po' di preoccupazione. Gioia tanta per Patrick. Molto preoccupato perché la nostra commissione di inchiesta ha individuato chi sono gli autori che hanno massacrato, torturato, ucciso Giulio Regeni e non ci sono le risposte dall'altra parte. Allora non prendiamoci in giro, ci sono troppe convenienze, ci sono troppi affari. Anche l'Italia, abbiate pazienza, ha venduto armi e armamenti all'Egitto che contro la democrazia, perché non si può fare questo con paesi che hanno quei regimi e contro la nostra Costituzione, contro i diritti umani. Il diritto alla verità è un diritto sacrosanto di cui ne abbiamo bisogno tutti e qui questo diritto non viene applicato fino in fondo. Allora sono molto contento che è stato liberato Zaki, sono preoccupato di altri 100.000 che sono in quelle carceri perché si sono posti a quel regime, sono preoccupato per altri regimi che ci sono in giro per il mondo, sono preoccupato che l'Unione Europea dia dei soldi alla Turchia per tenersi 2 milioni di persone lì, che l'Europa non riesca a fare un altro sistema per andare incontro ai migrati, sono preoccupato del modo con cui stiamo agendo con la Libia e come trattiamo le ONG che soccorrono nel mare le persone che fanno fatica, credo che non dobbiamo stare zitti, contenti, gioia, riconosciamo le cose positive, ben vengono ma sono sinceramente molto preoccupato di quel tanto di diritti che vengono ancora calpestati e della nostra Costituzione che ancora in gran parte è tradita.